In compagnia di Simone Franchino, responsabile degli allievi del Quincitava, primo anno in questa nuova mansione, come ti stai trovando? Mi sto trovando da Dio anche perché qui si torna sempre volentieri, quando poi i presidenti e i dirigenti ti chiamano è sempre un bel ritorno per me. Quest'anno con questo nuovo incarico di responsabile degli allievi aiuto il mister D'Agosto e aiuteremo anche un po' la Juniores a creare un buon gruppo, cosa che negli allievi e nella Juniores si sta già creando, aspettando i risultati. Abbiamo iniziato il girone con due sconfitte, però stiamo iniziando a giocare bene, giochiamo contro delle squadre che puntano i regionali come Real Canavese, Valle d'Aosta, Rivarolese. Siamo contenti anche perché il gruppo risponde bene, abbiamo una serie di ragazzi della zona e siamo contenti. Abbiamo riusciti anche a trovare due portieri, abbiamo una rosa di 18 elementi, cosa che negli allievi qua in zona con Ivrea, Pondona e tutte le squadre intorno non è facile da fare. Qual è il motto da dire agli allievi? Gli allievi devono imparare sicuramente, che devono essere educati, impegnarsi e i risultati vengono. Se c'è l'educazione a noi è già un ottimo guadagno. Il motto è giocare per divertirsi, credo come negli allievi, come nei giovanissimi e nella Juniores. Poi dopo le prime squadre giustamente devono vincere. Il loro motto è vincere, noi se vinciamo onestamente e tutti siamo felici di questo. Grazie a tutti.